Prima di tutto darei ingresso appunto ai protagonisti di questo processo per innanzitutto fare entrare la persona offesa del processo che si è già attivita dalla città civile, cioè la viola dell'anno che presenta la voce per il conto e per i meriti eccessi del maestro Vittorio Chievi Dopodichè farei ingresso all'incubbario, ossia il violino, che prende la voce per l'anno del maestro Flavio Rosco e farete quindi a parte dei testi o un bel forse intervento del divano giustamente il giusto che prende la voce per l'anno del maestro Luca Bianca e da ultimo il caricello che prenderà la voce per l'anno del maestro Manuel Tottomagino Grazie 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 a tutti. 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 Grazie a tutti.